Ciao da Apsim! Oggi gioca la Juventus ma non è ancora la festa della liberazione perché Allegri è ancora sulla panchina e probabilmente ci resterà anche l'anno prossimo visto che, come abbiamo appreso da Totosport in questi giorni, la società non ha intenzione di esonerarlo neanche in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi cioè quarto posto e vittoria della Coppa Italia. Al di là della vittoria della Coppa Italia, se la Juventus batte stasera il Sassuolo è praticamente in Champions League quarto posto quasi blindato con 8 punti di vantaggio sulla Roma e 10 sulla Lazio con 12 punti soltanto ancora da assegnare e una Juve che deve giocare contro un Venezia disperato ma in casa, contro un Genoa che sta facendo bene e può ancora salvarsi e deve ancora salvarsi fuori casa poi Lazio e Fiorentina ma insomma con 8 punti di margine e 12 da assegnare sarebbe veramente clamoroso non centrare poi il quarto posto quindi vittoria che darebbe serenità a tutto l'ambiente, forse troppa nel senso che comunque bisogna ancora lottare nelle ultime quattro partite ma vittoria comunque assolutamente non scontata, anzi molto difficile oggi al Mapai Stadium alle 20.45 con diretta sia su Dazon che su Sky con molto probabilmente quasi sicuramente questa divisa che già abbiamo indossato contro il Sassuolo infatti la terza partita stagionale contro il Sassuolo ci abbiamo giocato anche in Coppa Italia una vinta e una persa, persa quella in campionato e parliamo allora delle parole di Dionisi in conferenza stampa che hanno fatto riferimento anche alla gara d'andata spiegando cosa si aspetta da questa partita Allegri ve l'ho commentato ieri ha detto pochissime cose sulla partita soprattutto che si aspetta un Sassuolo tecnico e che bisognerà fare una partita giusta altrimenti se ne esce con le ossa rotte Dionisi invece ha detto siamo arrabbiati più che delusi per la sconfitta col Cagliari perché sicuramente il nostro obiettivo stagionale l'abbiamo raggiunto da tempo ma ci sono anche degli obiettivi quotidiani, degli obiettivi intermedi per esempio quello di fare più punti del girone di andata e in questo momento cercare di superare il Verona quindi come vi spiegavo, ma è normale che sia così le squadre che non devono piazzarsi per forza in Europa e non devono per forza vincere trofei hanno comunque degli obiettivi che possono anche essere semplicemente di arrivare ottavi piuttosto che noni di fare 50 punti piuttosto che 45 e sono obiettivi che vengono perseguiti anche con determinazione determinazione però è una parola utilizzata da Dionisi in riferimento alla Juventus ha detto dobbiamo avere le motivazioni e dobbiamo fare il massimo sapendo che potrebbe anche non bastare questo in generale in tutte le partite non abbiamo però nulla da perdere e abbiamo anche le qualità per mettere la Juve in difficoltà una Juve che ha fatto più punti nel girone di ritorno è una squadra forte e anche qui squadra forte ma non si dice mai quali sono i pregi dell'allenatore Massimiliano Allegri in particolare sono quadrati, sono attenti, sono determinati e sono forti nella fase difensiva così come nelle ripartenze queste sono le qualità e le caratteristiche mamma mia non avrei mai immaginato di trovarmi dopo una Juve vincente, stravincente, stradominante a venire definiti in questo modo con gli allenatori avversari tra l'altro giovani e inesperti tra virgolette che si prendono gioco quasi, si prendono beffe ma con tutto il rispetto sono le caratteristiche che si evidenziano, cioè c'è poco da dire, quello è dopodiché ha detto anche non hanno ancora raggiunto, la Juve non ha ancora raggiunto l'obiettivo stagionale quindi ovviamente ci sarà una particolare determinazione e giocherà per vincere ma lo faremo anche noi tra l'altro quando Dionisi ha parlato la situazione classifica era sicuramente più complicata poi appunto la Lazio ha perso, la Roma ha perso, la Fiorentina ha perso calmerosamente con la Salernitana ed è per questo che questa vittoria grazie al cubo di Allegri può valere già il quarto posto quasi, quasi matematicamente ha aggiunto anche, quindi anche noi giocheremo per vincere è passato tanto tempo dalla partita d'andata, siamo cambiati noi, sono cambiati loro, sono cambiate tante cose e quindi mi aspetto una partita più vicina, più simile a quella in Coppa Italia a gennaio piuttosto che nella partita di andata noi ci siamo migliorati ma dobbiamo continuare a migliorarci partiranno forte, la Juve probabilmente inizierà la partita partendo forte ma noi dovremo creare le nostre occasioni e mi è sembrato da questo punto di vista un Dionisi quasi speculativo quasi attendista, cioè quasi all'Allegri nel senso dovremo difendere questo attacco forte, questa partenza forte della Juve e poi venire fuori con le nostre occasioni il gol arriva, diciamo così dopo dobbiamo ovviamente parlare anche della formazione della Juventus perché ci sono delle cose interessanti da dire ho intanto, dice Dionisi, quasi tutti a disposizione ed è una prima volta dopo tanto tempo se non ho capito male hanno indisponibili per infortunio solo Arrui e Tolian per il resto sono rientrati gli altri abbiamo l'obiettivo, come già detto, di migliorare comunque la nostra posizione di classifica la Juventus parte favorita ma noi siamo capaci, abbiamo dimostrato di essere capaci di fare anche grandi cose e cose magari impreviste dal punto di vista dell'arbitro piccola notazione grazie a Nicolò nella mia chat discord cioè nelle chat discord riservate agli abbonati abbonatevi a questo canale vi bastano 99 centesimi al mese potete anche sfruttare tutte le chat riservate sul mio server discord link in descrizione, vi basta fare l'abbinamento del vostro account youtube al vostro account discord e poi potete avere, grazie all'abbonamento, anche l'accesso esclusivo alla chat live dei miei post partita della Juventus compreso stasera intorno alle 22.45 in diretta il post partita di Sassuolo Juventus oltre ai post quotidiani con la programmazione giornaliera con orari e argomenti dei nuovi video in uscita e quindi l'arbitro sarà Maresca Maresca che conosciamo molto bene sei sempre tu Maresca arbitro severo, arbitro interventista che garantisce una scarsa fluidità di gioco e quindi la gara potrebbe essere spezzettata ideale sarebbe o sarebbe stato allenarsi sui calci di punizione perché la Juve potrebbe conquistare molti calci di punizione forse l'interpretazione della partita sarebbe stata anzi sicuramente diversa con Quadrado che però come sapete si è infortunato proprio nell'ultimo allenamento di ieri e non si era mai infortunato Quadrado era l'unico giocatore praticamente mai infortunato in questa stagione aveva fatto più di 40 partite e invece si è infortunato pure lui e chissà che non abbia pure lui finito la stagione e quindi senza Quadrado che si fa fare tanti falli soprattutto in attacco può essere meno facile conquistare ma dobbiamo comunque provarci calci di punizione veniamo alle statistiche per inquadrare il momento di forma del Sassuolo e le qualità dei neroverdi Sassuolo che è decimo in classifica con 46 punti 58 gol fatti 53 gol subiti quindi comunque una differenza rete positiva la Juventus è quarta con 63 punti arriverebbe a meno uno dal Napoli se vincesse questa partita ma quello è irrilevante è molto più importante il distacco dalla quarta e dalla quinta con 50 gol fatti 8 meno del Sassuolo ma 29 gol subiti la Juventus in questo momento ha la seconda miglior difesa del campionato ma sempre comunque il decimo attacco o anche meno il Sassuolo ha fatto 7 punti nelle ultime 5 la Juve 10 quindi Sassuolo è in un ottimo momento di forma Sassuolo che attacca in maniera equamente distribuita tra le tre fasce verticali del campo ma tira prevalentemente dalla fascia centrale e dalla fascia sinistra leggermente in più rispetto alla fascia destra e arriva al tiro prevalentemente dentro l'area grande ma tira anche da fuori area non tanto dall'area piccola invece dal punto di vista dei tiri subiti è molto diverso perché il Sassuolo è molto debole in difesa il vero difetto del Sassuolo è che è molto debole in difesa e quindi subiscono i tiri prevalentemente dalla fascia centrale ma arrivano a subire tiri anche da dentro l'area piccola quindi in assoluta prevalenza area piccola e area grande e pochissimo da fuori area quindi è facile tra virgolette tirare al Sassuolo entrando dentro la loro area venendo dal punto di vista ecco delle caratteristiche in generale Fonte, Huskord comunque il Sassuolo ha per alcuni aspetti una prevalenza rispetto alla Juve una superiorità rispetto alla Juve nel rendimento per esempio ha più possesso palla medio 55,5 la Juve 53 precisione uguale o molto simile 85% più tiri totali a partita 15 la Juve 14,5 e più tiri importa a partita 5,5 la Juve 5 all'incirca anche però più tiri subiti e qui la differenza è più ampia 14 il Sassuolo 11 la Juve meno contrasti 13 a 15 meno intercetti 8,5 a 9 che ne fa la Juve meno due ali aerei 10 a 15 che ne fa la Juve più o meno siamo lì per quanto riguarda i falli 12,5 a 13,5 fatti dalla Juve la distribuzione dei tocchi di palla e non è una novità anzi in questo caso è simile ecco scusate mi stavo per dire il Sassuolo ha un baricentro più alto no invece curiosamente il Sassuolo non ha un baricentro tanto diverso perché in realtà si dice che Dionisi abbia raccolto il lavoro fatto da De Zervi e sicuramente è così però il Sassuolo è cambiato da quando c'è Dionisi ed infatti vediamo che ha un baricentro più basso 31,43,26 è la distribuzione dei tocchi di palla per terzi di campo dei propri tocchi di palla la distribuzione dei propri tocchi di palla per terzi di campo della Juve è 29,45,27 quindi addirittura una Juve che sembra leggermente in propensione offensiva rispetto al Sassuolo questo però passando ai dati di Analyst Fonte Opta non si rispecchia necessariamente nella fase offensiva anzi abbiamo che in open play quindi nelle azioni diciamo a palla in movimento il Sassuolo tira più della Juventus 399 volte fin qui in Serie A la Juve 359 ha ottenuto un XG più alto 39 la Juve 34,5 e ha segnato più gol su azione manovrata il Sassuolo 43 a 37 della Juve nonostante la Juve abbia segnato comunque solo 8 gol in meno del Sassuolo dal punto di vista invece delle azioni subite su open play anche qui vediamo una superiorità del Sassuolo che però si traduce in inferiorità perché significa che sono più deboli e quindi 339 tiri subiti a 255 39 e mezzo di XG against a 18 della Juve meno della metà 33 gol subiti a 17 della Juve quindi tra l'altro Sassuolo che è subito paradossalmente anche meno di quello che avrebbe dovuto subire su azione manovrata secondo di Analyst venendo invece ai piazzati anche qui abbiamo delle particolarità e infatti è la Juve che tira di più su piazzato 114 volte a 89 e che ha ottenuto un XG decisamente più alto 12 a 7 a 6,8 anche i gol su piazzato della Juve sono di più 7 4 quelli del Sassuolo per quanto riguarda i tiri subiti è comunque il Sassuolo la squadra più vulnerabile ma qui vediamo una differenza che si assottiglia infatti il Sassuolo ha subito 118 tiri da piazzato la Juve 105 XG XG subiti dal Sassuolo 12,3 la Juve 10,8 gol subiti 12 la Juve 10 quindi mancano sono solo due i gol di margine venendo invece alla qualità del possesso dei passaggi abbiamo che le due squadre sono molto simili per durata media del singolo segmento di possesso 10 secondi e 33 il Sassuolo 10 secondi e 49 la Juve numero di passaggi nel singolo segmento di possesso in media 3,71 il Sassuolo 3,83 la Juve velocità di risalita del campo 1,46 il Sassuolo 1,38 la Juve e poi ancora anche per quanto riguarda le sequenze di passaggi più lunghe quindi quante sequenze da almeno 10 passaggi ha costruito la Juve ha costruito il Sassuolo fin qui in serie A la Juve 412 il Sassuolo 361 di cui con però almeno un tocco nell'area avversaria o un tiro di più il Sassuolo 91,80 questo significa che la Juve ha una preponderanza per le sequenze da più di 10 passaggi difensive o diciamo attendiste ma non finalizzate alla conclusione a rete non finalizzate all'attacco il Sassuolo è più efficace da questo punto di vista ed infatti anche per quanto riguarda gli attacchi diretti che ricomprendono anche i veri e propri contropiedi il Sassuolo fin qui ne ha sviluppati 59 la Juve 51 quindi se la Juve è una squadra di ripartenza lo è persino meno del Sassuolo che però comunque non è una squadra che ti lascia il pallone perché fa più possesso ha comunque un'elevata precisione e quindi tutti i dati che vi ho elencato fin qui sempre rimanendo su The Analyst ultimissimi dati quelli sulla riaggressione il PPDA del Sassuolo è leggermente ma leggermente più alto di quello della Juve quindi una riaggressione leggermente meno intensa PPDA 11,8 Sassuolo Juve 11,2 il numero di riaggressioni effettive è più alto nella Juve 254 a 228 però abbiamo che se la Juve con queste riaggressioni è andata più volte al tiro su riaggressione su high turnover 44 a 38 è il Sassuolo ad aver segnato più gol su questo tipo di recupero palla 6 a 3 esattamente il doppio il che significa che la Juve sulla riaggressione alta magari riesce anche a tirare ma difficilmente riesce a segnare già detto degli indisponibili del Sassuolo mi risulta che siano solo a Rui e Toglian alla Juve si è aggiunto pure Quadrado quindi abbiamo 6 infortunati Chiesa McKennie Caglio Giorgi Locatelli tutte 4 stagione finita molto probabilmente Artur chi lo sa e Quadrado chi lo sa Artur forse rientra il primo maggio col Venezia Quadrado buonanotte nel senso che è probabile che abbia stagione finita pure lui interessante il fatto che oltre a Miretti è stato convocato anche un altro centrocampista da Allegri che è Zuelli Emanuele Zuelli nato il 22 novembre 2001 è stato acquistato a parametro 0 dalla Juventus lo scorso mese di agosto perché aveva fatto tutte le giovanili nel Chievo il Chievo è fallito e quindi Zuelli si è liberato e l'ha preso la Juve è un centrocampista centrale ambidestro che può giocare però anche esterno ed è per questo che Allegri lo ha scelto tra i vari giocatori dell'Under 23 per portarlo in prima squadra come prima volta prima convocazione per Emanuele Zuelli in prima squadra per questa partita proprio perché manca quadrado in Under 23 35 presenze un gol e 5 assist tra campionato e Coppa Italia l'ho visto un po' giocare e Zuelli è un giocatore interessante il problema è che ha la giocata offensiva quindi a che ci serve a noi non servono centrocampisti che fanno la fase offensiva ci servono centrocampisti che difendono come anche gli attaccanti quindi ma tanto problema non si pone perché Zuelli è utilissimo a fare compagnia a Miretti in panchina che non entra nessuno dei due formazioni allora ripeto quella della Juve è interessante vediamo prima quella del Sassuolo probabilmente consigli tra l'altro il buon tutto sport oggi fa una cosa che ripeto se l'avesse fatto qualunque altro giornale contro la Juve i tifosi della Juve oggi sarebbero imbufaliti inferociti arroventati aggressivi sui social a parlare di complotto come si fa ma dico come si fa a lasciar correre perché è una cosa grave secondo me che il giorno ma pure i giorni prima ma in particolare il giorno della partita tra Sassuolo e Juventus il giornale più vicino alla Juventus scrive ma non perché lo scrive ma perché evidentemente sarà davvero così che c'è prima della partita o in occasione della partita un incontro di mercato per frattesi e raspadori cioè ma i tifosi del Sassuolo devono fare il tifo per frattesi e raspadori oppure sono già giocatori della Juve frattesi e raspadori andranno in campo con la testa al Sassuolo o con la testa alla Juve non è questo anche un modo per destabilizzare l'ambiente non dico tanto quello di tutto sport ma il fatto stesso che vai a fare un meeting di mercato cioè qui sembra quasi che si vada in giro con la carrozza e con il cavallo cioè nel senso mi trovo a venire una volta a Reggio Emilia per la partita e allora incontriamoci stavolta perché poi altre occasioni non ce ne sono cioè basta che prendi un treno da Torino a Reggio Emilia quanto è se proprio non vuoi prendere la macchina o andarci che ne so in aereo in un modo ma cioè voglio dire ma anche sentirsi telematicamente no c'è bisogno della partita per vedersi e parlare di frattesi e raspadori e questo ripeto non è un modo per destabilizzare l'ambiente cosa avrebbero detto gli juventini veri super indignati contro chiunque se fosse successo il contrario giochi non lo so appunto Sassuolo Juventus e viene fuori che c'è un meeting per venire a comprare non lo so ma anche con una squadra più forte anche in Europa quale sarebbe stata la reazione destabilizzare l'ambiente invece no qui tutto a posto non è un problema che bello prendiamo frattesi e raspadori che intanto devono giocare contro di noi ma io non ho dubbi che frattesi e raspadori faranno una partita da professionisti mi piange soltanto magari pensare che Traoré era nostro e l'abbiamo lasciato al Sassuolo e quello sì che era un centrocampista ed è un centrocampista molto molto valido e complimenti a De Zerbi per aver portato Lopez proprio in nero verde per quanto riguarda la Juve difesa dovrebbe essere Cesni De Sciglio De Ligt Chiellini Pellegrini perché Danilo è convocato ma non sta al meglio quadrato è rotto quindi De Sciglio deve per forza giocare titolare e stiamo parlando del De Sciglio che ha giocato come ha giocato la partita scorsa contro contro la contro la Fiorentina c'è ancora Cabral che si diverte a saltarlo e a tirare in porta poi appunto De Ligt è titolare Allegri ha detto devo scegliere tra Chiellini e Bonucci per quanto mi riguarda se gioca Di Bala giocherà sempre Chiellini come già vi ho detto perché Di Bala non deve più vestire la fascia da capitano secondo la dirigenza e quindi se c'è lui in campo l'unico modo per non fargli mettere la fascia da capitano è mettere Chiellini quindi probabilmente giocherà Chiellini però c'è un dubbio magari Pellegrini Alexandro e poi a centrocampo se ci fosse stato Quadrado Allegri avrebbe giocato Quadrado Zaccaria Danilo Rabiot probabilmente anzi forse Quadrado Zaccaria Rabiot Bernardeschi sfruttando entrambi esterni con davanti uno tra Di Bala e Morata insieme a Vlaovic non essendoci più Quadrado si va verso il 4-2-3-1 probabilmente quindi Zaccaria Rabiot in mediana con Bernardeschi a destra Morata a sinistra Di Bala al centro dietro Vlaovic anche se si parla di un Vlaovic che parte dalla panchina a quel punto però non so come metterla perché ci dovrebbe essere eventualmente Pellegrini a centrocampo esterno a sinistra con Alexandro tersino sinistro per non mettere Danilo e quindi sarebbe nel caso Bernardeschi Zaccaria Rabiot Pellegrini di Bala Morata con Vlaovic in panchina insomma per una volta la formazione della Diventos non è già scritta ma diciamo il discorso qual è che è sicuramente molto difficile affrontare una squadra come il Sassuolo in generale ancora più difficile farlo con tutti questi indisponibili sì ma quadrado chi l'ha infortunato di chi è la colpa non è colpa mia non è colpa dei tifosi e forse sarebbe colpa dello staff che gestisce lo staff tecnico di cui il responsabile Allegri che ci ha anche quest'anno flagellato con un sacco di infortuni tanti sono stati traumatici tanti sono avvenuti in partita le stagioni finite di Caio McKennie Chiesa non dipendono dalla preparazione ma Chiesa si era rotto pure prima Danilo si è rotto due volte Bonucci è stato rotto due mesi Chiellini non ne parliamo Di Bala ha avuto i suoi infortuni anche se ovviamente meno quest'anno Artur adesso Locatelli adesso Quadrato sono quasi tutti muscolari ovviamente De Sciglio pure infortunato come al solito e quindi che cosa vogliamo giochiamo col Sassuolo con i giocatori contati e una formazione che non ha molto senso ma è forse l'unica che si può schierare grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti sulle formazioni le dichiarazioni di Dionisi gli aspetti tecnico-tattici su Sassuolo e Juventus il vostro pronostico mettete like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti vi ho già chiesto di abbonarvi al canale se vi va e se volete sfruttare ulteriori vantaggi livello dirigenti Aftim FC potete anche partecipare alla chat vocale durante la mia live reaction di Sassuolo Juventus dalle 20.30 di stasera ci vediamo molto presto e sempre forza Juve